Salve a tutti ragazzi, sono Sticky Life e ben ritrovati in questo nuovo video dove si parla sempre ancora di Olimpiadi Intanto vi faccio così, ma avanti e dietro con la poltrona perché mi piace e quindi lo faccio Comunque, si parla ancora di Olimpiadi e si parla delle ben 7 medaglie che l'Italia ha vinto solo oggi, 29 luglio Ve le vado ad elencare, allora, il primo è stato l'oro con il tiro d'oro l'arco Vinto appunto dall'Italia con Michele Frangilli, vabbè la squadra Michele Frangilli, Marco Galliano e Mauro Nespoli Poi si parla, si passa alla scherma con il Fioretto che Fioretto vinto completamente dall'Italia ragazzi Si parla di Elisa Di Francisca, italiana logicamente, che ha vinto l'oro L'argento invece è Arianna e Rigo e bronzo Valentina Mezzali che si sperava che andava verso l'oro Invece si è accontentata di un bronzo, ma che importa, basta che siano 3 italiane e a noi che ci importa Poi invece tiro a segno, a pistola 10 metri uomini, si vince l'argento, Luca Tesconi Tesconi o Tesconi, boh Poi, giudo, giudo hanno vinto... aspettate, ha vinto... ah, bronzo, ha vinto il bronzo, scusate Chi ha vinto il bronzo? Rosalba Forciniti, Forciniti sì, Forciniti E poi a sciabola ha vinto l'argento, sempre un italiano, quindi siamo a 7 medaglie ragazzi Ragazzi e ragazzi, sì Comunque per vedere la diretta, ripeto, il link è sempre questo qua, non so se avete visto i miei video precedenti Non ho avuto nessun iscritto, brutta cosa E comunque spero che con questo video almeno vi iscriviate, mettete mi piace Potete anche commentare negativamente, però almeno vi sto dando il link della diretta E io mi accontenterei E si spera domani altre medaglie, sempre più medaglie, 7 medaglie in un giorno ragazzi, è molto, molto buono E comunque la Pellegrini, Francesca Pellegrini è finita in finale, cioè sta in finale E quindi si spera ancora in un'altra medaglia, cioè l'oro, si spera, si va all'oro Ma l'argento è uguale, basta che si vinca qualcosa, no? E ragazzi, detto questo, spero che vi godiate la diretta E spero che vi godiate anche i miei video se vi iscrivete, se ne volete altri, logicamente Un saluto da tutti quanti da StickyLive Commentate, iscrivetevi, un mi piace Sono 4 ma io, sono 3 ma io ho messo i 4, non so perché Un saluto a tutti da StickyLive, ciao!